Le docce sexy della conigliata del grande fratello Dieci continuano a fare impazzire gli italiani Sara, tra una depilazione scellare e un'insaponata tutto tondo si ritrova in compagnia di Mauro che non perde occasione per provarci con la bella napoletana Ma il suo cuore non apparteneva a Veronica? Per fortuna a ristabilire gli equilibri ci pensa Marco che interrompe il lidiglio dei due Grazie a tutti